A dispetto del budget risicato, l'assessorato al turismo del comune di Olmia mette in campo nuove iniziative dedicate all'accoglienza ma anche allo scambio di informazioni con gli uffici pubblici. A illustrarle alla stampa questa mattina è stato l'assessore Marco Ovargi. Il servizio è di Nardo Marino. Un nuovo sito web Info Point Sardinia che consente a uffici e denti turistici pubblici di condividere informazioni e allo stesso tempo di fornire risposte alle richieste di chi intende trascorrere le vacanze in Sardegna. Online da ieri è costato 340 euro più IVA. Inoltre wifi gratuita per tutti, anche per chi utilizza operatori telefonici esteri, nell'area circostante il Palazzo Municipale di Corso Umberto. Ma alla connessione, la pagina iniziale sarà quella che contiene l'offerta turistica della città. Costo zero grazie a un accordo con la società cagliaritana interclick.it. Marco Ovargi fa i conti con gli spiccioli, 80.000 euro di budget per tutto il 2012 concessi al suo assessorato e lancia l'allarme. Se il bilancio preventivo non si chiuderà, il 31 gennaio saranno problemi seri. Nel frattempo ci si affida alla fantasia, che qualche risultato comunque l'ha portato, come il seminario per gli uffici turistici pubblici, che sarà replicato insieme alla riemissione dell'Olbia Card e alla manifestazione Olbia Spring. Si punta poi alla formazione, con un altro seminario dedicato stavolta all'approccio metodologico all'accoglienza, che sarà tenuto da esperti del settore nel mese di marzo. E poi c'è la scommessa della conquista del mercato russo. Olbia potrebbe essere la prima città italiana a ottenere la certificazione degli standard qualitativi alberghieri per i turisti dell'est, aspettando i grandi eventi, in particolare nel mese di settembre, quando la città ospiterà le Olimpiadi di Enduro. Per quella data, Olbia potrebbe essere dotata di un'area di sosta attrezzata per i camper.